Ciao, benvenuti al mio negozio, sono Paolo Brada e questo è il mio canale. Prima di guardare il video, se vuoi, puoi abbiare al mio canale, è gratuito, non preoccupare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, è tutto per questo video. Grazie per la visione e iscrivetevi al mio canale per non perdere i video futuri. Grazie a tutti.